Al via le iniziative dell'estate Empedoclina avete scelto uno slogan, Viviamo Porto Empedocle. Tante le manifestazioni iniziate a luglio che si prorarranno per tutto il mese di agosto e di settembre. Sì, lo slogan intende proprio richiamare il fatto che noi intendiamo vivere a tutto tondo la città di Porto Empedocle e invitare gli altri a viverla con noi, che è una città splendida, che offre le bellezze naturali che noi conosciamo, le spiagge che hanno avuto una particolare cura e attenzione durante quest'anno, che tutti ci dicono, ci fanno proprio i complimenti per quanto siano pulite, ma anche la possibilità di vivere altro tipo di momenti, momenti di musica, di teatro, di cultura, di spettacoli musicali. Abbiamo appunto un programma molto ricco, quasi una settantina di eventi, in cui tutta la città coralmente risponde e come se ci fosse un piano, un programma in cui tutti insieme proponiamo la città di Porto Empedocle. Ci saranno vari momenti, anche Memorial, degustazioni enogastronomiche di prodotti tipici accoppiati a momenti musicali. In particolare quest'anno con la collaborazione della Proloco abbiamo anche inteso offrire un momento di fresco e di spettacolo della natura, prendo la torre di Carlo V fino alla sommità, per cui per chi volesse c'è questo bellissimo panorama di Porto Empedocle, si può gustare nel silenzio e nella frescura anche dall'alto. Devo dire che nel primo fine settimana, ora di luglio, che abbiamo aperto la torre fino in cima, c'è stata una risposta notevolissima con persone in fila fino oltre la mezzanotte. Si stima che saranno oltre 500 persone che sono venute in poche ore a visitare la torre fino lì su. Quindi siamo fiduciosi che Porto Empedocle possa veramente essere vissuta pienamente per quel che merita e abbiamo fatto un programma che intanto dura fino a fine settembre, perché per certi versi si apre con la festa della Madonna del Carmelo e si chiude con la festa della Madonna della Dolorata. Ma intendiamo fare in modo che a Porto Empedocle ci sia turismo e sia l'estate tutto l'anno.